Nel video precedente ho iniziato un'analisi oggettiva dei pro e dei contro riguardanti il trasferimento in un borgo di montagna, esperienza diretta che ho fatto. È bellissimo cambiare vita e cambiare lavoro e trasferirsi in mezzo alla natura, magari in montagna. È una cosa che consiglio a tutti, però bisogna fare molta attenzione a diverse cose. Questi video prendono spunto da una visita al borgo storico di Cornello dei Tasso in Valle Brembana, provincia di Bergamo, un posto bellissimo che ti consiglio di visitare. Nel video precedente trovi altri dettagli. Eccoci adesso all'ingresso del borgo. Ti ho già parlato del primo grosso problema da affrontare se vuoi trasferirti in un posto come questo. Adesso proseguiamo. In questa giornata autunnale non c'è in giro nessuno e percorrendo questa antica strada, la via Mercatorum, un'importante strada di comunicazione e scambi commerciali nel Medioevo, sembra davvero di essere fuori dal mondo. Pensare alla frenesia delle città e immaginare di mollare tutto per trasferirsi in un posto come questo può essere molto attraente. Qui ci sono pochissimi residenzi, una ventina in tutto e ci sono parecchi spazi disabitati. Sicuramente in questo posto, incluso tra i borghi più belli d'Italia, non è facile comprare un immobile, ma se hai la possibilità di farlo, poi con che attività vivresti? Ecco un altro elemento determinante da affrontare. C'è che si fa attrarre dalle visioni romantiche legate al ritorno alla natura e immagina improbanti attività nel settore agricolo, argomento che ho già ampiamente trattato in altri video e che ti invito a guardare perché anche lì la realtà è molto diversa da come se la immaginano molte persone. Oggi però lasciamo stare l'agricoltura e vediamo se ci sono altre attività che si potrebbero sviluppare in un posto come questo. Se sei un freelance potrebbe essere un luogo perfetto, visto che non ti servono strutture particolari. Se ti accontenti di una sistemazione spartana non hai grosse difficoltà a trasferirti in un posto come questo abbastanza rapidamente. Visto che fondamentalmente ti serve solo una connessione internet, ti basta valutare quelle disponibili e trovare la più adatta al tuo lavoro. Qui ovviamente la fibra non arriva, parlo di FTTH cioè Fiber to the Home, la connessione diretta che arriva fino in casa. Tutti gli operatori ti propongono la fibra senza però precisare che si tratta di una connessione FTTC cioè Fiber to the Cabinet. La fibra arriva fino a una centralina e poi da lì a casa tua viaggia sul normale filo di rame. In questo posto la centralina si trova nella parte bassa del paese e da lì parte il normale cavo. Sono diversi chilometri quindi si devi scordare giga di banda ma attualmente una ventina di mega soggetti anche a pesanti oscillazioni. Ma c'è anche chi sta molto peggio. Se sei in una zona ancora più isolata devi sicuramente prendere in considerazione connessioni wireless. Io ho usato EOLO per molto tempo e ne ero completamente soddisfatto. Devi comunque tenere conto del fatto che ci sono zone dove non è possibile usare questa tecnologia perché la tua antenna deve essere in portata ottica con la stazione più vicina. Un'alternativa recentissima è rappresentata dal sistema satellitare Starlink, molto efficiente e nemmeno lontanamente paragonabile ai vecchi sistemi satellitari. Ti sto parlando di connessione internet perché ovviamente sto analizzando la possibilità di trasferirsi in montagna per vivere e lavorare, non per fare l'eremita senza televisione e internet. Scelta rispettabilissima ma completamente diversa da quello di cui sto parlando. Se vuoi far l'eremita guarda i video sugli ecovillaggi che trovi sul mio canale YouTube Better Call All. E se non sei un freelance e non vuoi avventurarti nel fantastico mondo agricolo, cosa potresti fare in un borgo come questo? Parlo di attività che ti possono garantire un ritorno economico, non di qualche palliativo da sopravvivenza tipo vendere collanine o cose del genere. Beh, in un borgo in montagna non ci sono molte alternative realistiche. Se capiti in un posto molto frequentato da turisti potresti pensare al classico ristorante da turisti, ma ce ne sono già tanti dappertutto. Perché ovviamente non penserai di poter avere una clientela sufficiente basandoti solo sugli abitanti del posto, vero? Qualche sognatore pensa che si possano aprire o riaprire certi negozietti di una volta tipici dei paesini. Io, avendo analizzato diverse situazioni, lo sconsiglio vivamente. Sarebbe un suicidio economico destinato a durare solo fino a quando non finisce il capitale che puoi sprecare. E chi ti vuol far credere il contrario è un incompetente oppure un irresponsabile. Se vuoi approfondire l'argomento ti suggerisco un altro video dal titolo emblematico, sei morto, lo trovi sul mio canale YouTube Better Call All. Trovi tutti i link anche qui sotto. In questo borgo un tempo c'erano piccole attività e ci sono molti spazi inutilizzati. Se capiti da queste parti in un momento in cui c'è un po' di flusso turistico, magari ti viene voglia di prendere in considerazione la possibilità di aprire una piccola attività. Però te lo sconsiglio, perché qui, come nella maggior parte dei piccoli borghi, non hai un flusso turistico costante e sufficiente a garantirti un adeguato ritorno. La stragrande maggioranza dei piccoli paesini non si può certo paragonare a certi luoghi particolari, magari in Toscana, dove i pullman turistici scaricano ogni giorno migliaia di persone e dove sicuramente un'attività ben studiata può dare interessanti ritori. Qui scordatelo perché moriresti di fame. Scordati anche di avviare o trasferire un'attività nel settore e-commerce. Sarebbe troppo scomodo ed avresti un enorme ed insormontabile problema. I corrieri non ci arrivano e quando lo fanno non ti garantiscono un servizio regolare. Ci sono zone servite solo in particolare i giorni della settimana e non puoi in alcun modo cambiare questa situazione. Tutti i corrieri hanno fin troppo lavoro e quindi nessun interesse ad avere un piccolo cliente difficoltoso come te in un borgo sperduto. Su questo argomento guarda quello che ho già spiegato nel primo video. Per riassumere, siamo in un borgo storico bellissimo che, come molti altri, può essere molto attraente per chi vuole mollare tutto e cambiare vita e lavoro. Guardando le cose realisticamente però, le uniche possibilità per lavorare in posti come questo sono legate ad attività come freelance oppure in remoto per qualche azienda che lo consente. E comunque ci sono molti problemi da affrontare. Li analizzeremo nei prossimi video. Se questo video ti è piaciuto metti un like e condividi. Per non perdere i prossimi iscriviti e attiva le notifiche. Lascia commenti, domande o suggerimenti oppure racconta la tua esperienza. Se vuoi conoscere le mie puoi leggere la guida che ho scritto. Il titolo è Non fare questi errori.